ciao a tutti da Davide di audio costruzioni oggi cercherò di non far vedere il mio bel faccione ma vi farò solo una spiegazione vocale di quello che vedete davanti questo è un preamplificatore Macintosh è l'MX130 adesso mi abbasso un po' perché secondo me è più gustoso vedere più basso ecco qua ok che è molto molto interessante era un prodotto uscito negli anni circa 98 giù di lì un po' prima un po' dopo non fateci caso che era un preamplificatore anche audio video con il sintonizzatore all'interno è venuto dopo il C39 che casualmente in questo periodo ho anche lui ed è un come dicevo un preampli che da usato rispetto al prezzo del nuovo che erano 11 milioni e 800 mila lire una cosa del genere insomma era veramente molto caro si abbassa molto ma può essere un pre interessante perché ha delle caratteristiche delle funzioni molto molto belle intanto vi vado a spiegare l'oggetto vediamo un pannello anteriore con i nostri regolazione di alti e bassi ok adesso li faccio vedere anche da vicino ecco vedete qua gli alti e bassi poi dopo abbiamo la sezione reach out perciò possiamo andare a selezionare l'uscita che vogliamo e sotto qui ecco vedete è il modo di ascoltare o mono stereo o addirittura anche tante altre funzioni diciamo relative all'audio video ecco qua abbiamo il nostro sintonizzatore cioè il display del sintonizzatore vedete sopra quella specie di parrettina qua questo qua no è il nostro segnale di ingresso del tuner e sotto abbiamo sotto abbiamo il regolazione del volume scusate aumento un po la luminosità magari ok adesso mi sposto un po vediamo perché qua vedete è venuto ecco meglio qua forse un po lo specchio scusatela ecco poi dopo qua abbiamo le nostre varie entrate ok vedete quante compreso il fono che ha anche una bella entrata fono e tantissime altre entrate no qua abbiamo la nostra regolazione del volume qua sotto il ludness che per quanto riguarda gli apparecchi macintosh soprattutto vintage non manca mai e qua abbiamo il ritardo cioè se vogliamo far fare l'effetto diciamo su round al nostro preamplificatore possiamo usare questo questo ritardo qua che ci fa questo effetto ecco invece sotto troviamo tutti quei tastini che ci servono per la se vogliamo usarlo come audio video video il surround lever il prologic e tutte quelle cose lì mentre da questa parte la parte destra troviamo il nostro le nostre regolazioni per il tuner quindi am fm alzare abbassare ecco questo è per quanto riguarda il pannello anteriore prima di andare a presentare a spiegarvi il pannello posteriore volevo spiegarvi che questo pre qua come dicevo può andare molto molto bene anche per un sistema a due canali quindi abbiamo un sinto e il pre chiaro è che macintosh soprattutto in questi anni aveva la sua filosofia ancora la sua filosofia che però si va leggermente attenuandosi quindi abbiamo un preamplificatore che è piuttosto dolce piuttosto caldo come tipo di suono quindi se vi piace questa tipologia di di ascolto questo direi che è un ottimo pre e come dicevo l'entrata fono è veramente a livello di macintosh ora ve lo faccio vedere dietro vi faccio vedere qua io vado a regolare il tuner eccomi qua nel tuner no ecco adesso stando il tuner io dopo posso spostarmi trovare un'altra stazione vedete che è qualcosa addirittura il tuner ha il filtro mpx che è solo dei tuner di altissima qualità qui dentro c'è una scheda della madonna per per la sezione fono scusate radio ecco ora ve lo faccio vedere dietro stacco un po di roba eccoci qua eccoci adesso guarda se va tutto bene se vedete tutto qua ho messo un filettino fai vedere se ci siamo proprio ecco qua abbiamo tutto quello che dobbiamo avere in questo senso che allora qua abbiamo tutte le entrate a partire da qua no abbiamo il fono l'aux adesso ve lo spiego un po meglio così faccio anche meglio il mio mestiere ecco qua vedete il nottolino per il fono aux cd1 cd2 tape tape 1 tape 2 satellite tv insomma abbiamo veramente una montagna di roba ricordo e processo se vogliamo mettere qualcosa tipo equalizzatore esterno qualcosa del genere ma non so cosa possa servire ok ecco e qua abbiamo tutte le nostre uscite per andare a diciamo comandare i nostri nostri finali no e qua abbiamo un'altra cosa molto interessante che ci rende questo prodotto sia antico che diciamo sia vintage che allo stesso tempo moderno perché abbiamo le entrate separate quindi se noi andiamo a comandare questo pre con un lettore con le uscite separate rca noi abbiamo praticamente le ultime codifiche perché la codifica lo fa la fa il lettore quindi abbiamo un apparecchio che tutto sommato diventa eterno qua addirittura se abbiamo una tv analogica a l'uscita vedete il modulatore che va a immettere nel segnale antenne però ancora vecchio standard analogico i comandi che gli stiamo dando vedete questo è il modulatore no qua ci dice alcuni canali che ci butta fuori qua c'è l'entrata e qua c'è l'uscita no bene poi dopo sotto andiamo ad avere ecco qua vedete surround calibrate cioè possiamo regolare tutti i nostri le nostre uscite no ecco poi qua abbiamo le scusatemi ecco qua tutta la roba che riguarda l'ottica ok si è entrata il video scusate sia l'entrata che l'uscita e qua abbiamo la nostra antennina io per farla funzionare speriamo che sia a fuoco possiamo usare una di quei connettori però basta anche un pezzettino di cavettino con io l'ho saldato lo metto al centro e devo dire che col suo cavettino da mezzo metro circa riceve benissimo questo è quanto vi faccio vedere anche un'altra cosa eccoci qua allora oh 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 qua eccoci il telecomando eccolo qua sì il classico Macintosh con i volumi e le nostre entrate qua se andiamo a selezionare qualsiasi entrate è proprio un classico della Macintosh invece il suo manuale e questo sempre blu spero di essere stato chiaro un saluto a tutti da Davide di Audiocostruzioni grazie 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 grazie